Questa 24esima edizione del premio Fair Play Menarini sarà di poco speciale. Sarà quella della rinascita, dei sorrisi dopo le lacrime e della speranza dopo la paura che tutti noi abbiamo vissuto. Sarà una serata a dir poco magica, tutti entusiasticamente felici di esserci, compresi i grandi personaggi che giungeranno da ogni parte del mondo per ricevere un riconoscimento sempre più ambito e prestigioso. Io sarò per la quinta volta sul palco, dopo che nell'ultime tre edizioni mi è stato riservato il privilegio di svolgere il ruolo di conduttore e dopo che nel 2002 ho ricevuto il premio nella categoria Narrare le emozioni, in un momento indimenticabile. Con me c'era infatti Daniel Nigro, capo dei Pompieri di New York, che aveva coordinato le operazioni dopo il crollo delle torri gemelle. Ci vediamo giovedì 10 settembre a Castiglion Fiorentino. Sicuramente ci divertiremo e ci emozioneremo tutti insieme.